Musica E' nel giorno del primo novembre, festa di ogni Santi, che come consuetudine Civitella in Valdichiana celebra la giornata dell'unità nazionale e delle forze armate, commemorando così la vittoria italiana nella prima guerra mondiale. Come di consuetudine ogni primo novembre, approfittando del giorno di festività e quindi della possibilità di avere numerosi cittadini, come amministrazione intendiamo celebrare appunto la fine della grande guerra e fare questa celebrazione ricorda tutte le vittime, i nostri cittadini e non solo, di questo tragico evento. La giornata di commemorazione ha preso avvio con la visita e la deposizione della corona dall'oro da parte del primo cittadino a tutti i cippi monumentali del territorio in memoria dei caduti, ed è poi proseguita con le celebrazioni della Santa Messa a cui è seguito il corteo fino al parco della rimembranza per la deposizione di una corona dall'oro al monumento dei caduti. È stato importante anche il tributo dato sulla prima guerra, perché ci sono stati uomini che non sono più tornati, hanno lasciato madre e figli da soli a crescere in questo territorio. Sicuramente la seconda guerra, quella in cui Civitella ha dato un tributo di sangue davvero importante, ricordiamo appunto l'eccidio del 29 giugno, dove oltre 200 persone, prevalentemente uomini, e ragazzi persero la vita su quella tragica piazza di Alcide Lazzari, appunto di Civitella.